Ciao amiche, eccoci qui alla Uppim per le grandi novità della scuola. Le collezioni dei gremiolini e anche i coordinati, cartelle, quaderni, colori di tutti i colori. E per essere più bravi a scuola, Uppim regala una calcolatrice a cellule solari. È il regalo più ecologico. Pensa che funziona con la luce. Un così grande regalo con solo le 50.000 lire di acquisti. E allora sapete cosa vi dico? Più ci penso e più dico... Uppim! Prima, passa la Uppim. Prima, passa la Uppim.